Esiste un luogo dove il silenzio è l'eco di storie millenarie Circondata dalle piccole doromiti e da elessini la vallata di Arzignano si presenta agli occhi di chi la guarda accogliente e immersa nel verde Colline sinuose e fitti boschi sono uno spettacolo naturale di grande suggestione che si respira anche nelle atmosfere quotidiane Camminando per le vie della città si viene catturati dal fascino di antichi edifici come la chiesa di ogni santi Nata come piccola cappella della pieve di castello nel corso del tempo si è ampliata L'attuale struttura fu edificata nel 1803 in stile neoclassico Al suo interno viene custodito un importante patrimonio pittorico e scultoreo Qui molti angoli conservano il fascino immutato della storia Dal primo insediamento delle Eugane Agentes ai preziosi esempi di architettura medievale come l'antica rocca difensiva del XIV secolo La rocca scaligera fu fatta costruire dall'importante e ricca famiglia dei della Scala per fortificare la città Insediata e ricostruita più volte nel corso del tempo il restauro ha riportato alla luce l'antico cammino che collega tutte le torri e il famoso affresco raffigurante Leone di San Marco e cinque stemmi ridando originario splendore ad un luogo dove fede e tradizione si fondono e confondono Basta allontanarsi di poco dal centro per raggiungere una vera e propria oasi di tranquillità e relax Dalle rotte del Guà fino ai boioni di Restena 338 ettari di verde si perdono nello sguardo della vallata Una natura che fa parlare di sé regalando emozioni e sapori intensi e mostrando l'anima più vera di una terra che non smette mai di sorprendere Valli del vino e del racconto Terre da gustare